E' tornato oggi l'appuntamento con la passeggiata empatica. Ad essere coinvolti sono stati 78 alunni delle classi quinte della scuola primaria della direzione didattica di Montesilvano di via Valle d'Aosta. La passeggiata empatica ha concluso la due giorni del progetto Sentinelle della Civiltà, organizzato dal responsabile dell'ufficio di Sabili del comune di Montesilvano Claudio Ferrante in collaborazione con l'associazione Carrozzine Determinate. L'iniziativa è stata ospitata nel cortile della scuola e si è trattato di un nuovo interessante appuntamento dopo quelli tenuti in altri istituti tra Pescare e Montesilvano per sensibilizzare gli studenti sulle problematiche quotidiane di chi con la disabilità è costretto a fare i conti con le barriere architettoniche non solo. I ragazzi sono stati meravigliosi. Proprio questo progetto che ci viene richiesto non solo da tutto l'Abruzzo trasforma proprio i ragazzi perché fa fare una grande riflessione su quella che è la felicità, su quello che è il loro impegno nei confronti dei ragazzi con disabilità. Abbiamo trattato gli argomenti quale empatia, gentilezza, solidarietà. Loro hanno capito perfettamente tutto, hanno capito che possono essere barriere o facilitatori. Si sono messi subito all'opera perché hanno aiutato immediatamente i loro compagni con disabilità. È stato un percorso pedagogico davvero ricco di emozioni. Montesilvano da anni ha iniziato un percorso volto appunto a entrare nelle scuole e ha tramite l'ufficio di Sabili magistralmente retto da Claudio Ferrante dare degli insegnamenti per il futuro ai nostri ragazzi. Devo dire che la soddisfazione è tanta perché ogni qualvolta ci sono queste lezioni i ragazzi sono molto collaborativi e soprattutto sono molto diciamo intercettano tutte quelle che sono questi insegnamenti e ci auguriamo appunto che da future generazioni possano regalare a tutti noi, a regalarsi un mondo migliore, un mondo fatto da barriere che verranno annullate sia da un punto di vista culturale che prettamente architettonico.